Buongiorno a tutti e ben ritrovati su DarkVanities nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico Io sono Kei Matteo Camarda e oggi siamo in una location, la solita location Do qui faccio i miei video per il canale ma oggi c'è qualcosa di nuovo E questa cosa si chiamano luci, si chiama microfono a condensatore, si chiama Scarlett Johnson Non scherzo, si chiamano i miei accessori che io uso quotidianamente per registrare canzoni o altro tipo di contenuti Ditemi voi cosa ne pensate di queste cuffiozze e di quello che non vedete qui perché ho il gimbal che mi proietta una super luce Questo microfono a condensatore fa molto figo, se parlo allontano da qui si sente lo stesso? Oh bello! No vero? Meglio parlare così Allora, come, cosa, cosa, cosa ne dite? Cosa pensate di questo, di questa location? Prima di tutto Vi, vi, vi interessa? Oppure no? Oh fuck Questo Oh lord Oh lord Questa, questa si, questa si chiama Aspetta eh Madre di Dio E se ve la metto qui? Che toia, questa è horror! Ma questo è horror fratelli! Proviamo un'altra Oh Ma funziona Questa roba funziona o è solo un gadget? Ehi, micchia Questa Questa è idola Ok Ma questa è una luce che diminuisce, scompare, torna su Porca troia È una figata pazzesca Perché se io faccio così ora Minchia Bella raga Perché le cose non sono come sembrano Ah Ok Con questa luce sotto il mio viso Come funziona oppure no? Come funziona oppure no? Come funziona? Dai, dai, dai Allarme rosso Flash Dai cazzo Mando bene una Sì, questa è quella che voglio io Ok ragazzi Partiamo nel nome dell'horror Del fantasy Così Cazzo Cazzo